Musica Tutte le domande che volete Io vi risponderò ragazzi Ve lo prometto Quale cosa vogliate chiedermi Chiedermi Che cazzo parla Quello che cosa vogliate chiedermi Ragazzi vi risponderò Allora ragazzi Entriamo subito In partita Sono Allora E' già pieno di gente Questo server Sono 10.41 E ragazzi Andate su mc.lecraft.com Link in description No ma queste mappe Quale odio Sono troppo enormi Queste mappe Sv subito Me ne prendo Il cazzo di questa inizia Via E' anche Raffreddatissimo Mi fa cagare anche sta mappa Mi iscrivono su snapchat Su snapchat Come sto comando Desibilitato Mentre si gioca Uscì Sciu scendi No C'è qua una cesta Apriamola Se uova e due ragnatele Rega Oserei dire Che mi hanno regalato Anche un diamante Che botta di culo Ci mettiamo Queste due scale qua Perché ragazzi Io voglio andare a conquistare il mondo Con due scale in mano Come sempre Minchia Se prendevo la ragnatele Tipo destemmiavo in turco algerino Io ragnatele Non lo spacchiamo No ci mettiamo 40 Minchia Una ragnatela Dove evitare L'ho presa in pieno Ok Allora qua Le pozzine Ragazzi Scrivetemi nei commenti Che cazzo servono le pozzine Perché io in 14 episodi Più gli altri Non le ho mai usate Praticamente Cioè Non ho mai capito l'utilità No 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 come cazzo No Madonna 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 Basta Queste mappe enormi Basta Ma perché è disabilitato Sto comando Cazzo Prima o poi La troverò Una Cazzo Di partita Devi iniziare Fatti di merda Dai oh Siamo 8 di 8 Cazzo È la prima parita Che trovo 8 di 8 Ci svegliamo C'è uno Cazzo di mosso E il caschetto in diamante Perché ricordatevi A Natale Fatevi arrivare Un caschetto in diamante E poi Incendi La cesta in balcone Micchia il pesce Ragazzi Se non trovi il pesce È figa Sono un coglione C'è figa Una cazzo Di pala Di pala Inciantata Ditemi Che cazzo Me ne devo fare Devo andare in giro A spaccare E vabbè Dai Oggi facciamo La raccolta della neve Ragazzi Perché la raccolta della neve È molto importante Cioè Figa Se non hai Praticamente Gli stack Di pala di neve Sei un coglione Cioè Figa Visto che Dalla disperazione Sono già sceso Ti ucciderò Con Una pala Inciantata Perché È ovvio È matematico Come cosa Figa Pala inciantata Uguale vittoria Intanto Vorrei notare Come tutta la gente Che vuole a fartin con me È già morta No dai Ma perché Sono tutti De pro Porche di quella Puttana Quanto cazzo è forte Sto rumore Se prendo il cactus Ti ve lo giuro Mi lancio dal balcone Cazzo Cazzo Ditemi cosa cazzo Mi faccio di 4 milioni Di caschetti E di 6 frecce Se non mi danno l'arco Ditemelo 6 pali di neve E come sempre Quando mi danno Delle frecce Non avrò Ah no C'era l'arco Oddio Che asino Mi sono fatto malissimo Col mouse Ragazzi Che male Allora 2 bomber Ok Guardami No ma dai Madonna Madonna Sono anche a fianco Ma sono dietro Cactus Felix Occhio Ti voglio fare del male Stai attento Felix Non l'ho colpito Una volta Una Dio Ah ma se esco D'aprita con S1 Perdo anche punti Già ce ne ho pochissimi Poi se faccio anche Ogni volta S1 Perdo un botto di punti Vorresti dirmi questo 3 2 1 0 Marco non è difficile Spaccare un cazzo di blocco Ok qua 6 6 6 12 18 24 Una cazzo di torta 2 Fattute Scale Devi centrare un bu Marco Molta calma Allora Qua 2 TNT 3 stringhe 12 uova Le uova Le uova Le uova Guarda Ci stanno già scannando Allora No Marco No 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 Raga no No Raga ve lo giuro Ha fatto tutto da solo Non ce la farò mai Registrare sti video Sto facendo troppo fei Giù 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 Mouse Devi tirare il cavo Non ce la farò Ok Ma per cari Ma penormi Allora Un diamante Basta Queste stringhe Ma io posso Posso continuare Le parite Con due scale In mano Io A me non frica un cazzo Cioè questo qua sarà L'episodio delle scale Poi tipo a puttana Qua Anche se ho un ascia In diamante Mi frica un cazzo L'arco senza le frecce Beh ok È ovvio Figa Non è che dici Cioè ti do Ti do anche le frecce Mai Mai nella vita Mai Qua c'è già una isola Attaccata al culo Praticamente Quindi Cosa c'è che mi rompe il cazzo Madonna santa Io sto andando Seriamente su un'isola Combattendo con delle scale Capite Capite il livello No 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 Voglio far team Voglio far team Voglio far team Tu cosa vuoi fare Basta Questi rumori molesti Che cazzo è I tasti permanenti Bravo No dai Ma perché Tutta sta molestia Io te lo giuro Che se ti uccido Con due scale Dove cazzo sei Cosa stai facendo No 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 Ma come cazzo Io Allora Io accetto qualunque cosa Ma se ti spacco Cioè se io ti do 4 milioni di colpi E tu me ne dai due Non è giusto Beh ragazzi Per questo è tutto Mi raccomando Vi invito a lasciare Un mi piace Arriviamo come ho detto prima A 120 mi piace Passate da Snapchat E da Ask Perché ragazzi Voglio che mi riempiate di domande Ho spaccato il telefono Noi ci vediamo In un prossimo video Da Mark è tutto Bella